buongiorno bella gente benvenuti nel mio canale questa volta vi porto un segreto che ho scoperto anzi un intruglio un siero che ho preparato che vi fa dorare i capelli ricci senza crespo per ben sette giorni come sapete col caldo che fa i capelli ricci si seccano tantissimo e perdono ovviamente le loro onde o perdono il riccio diventano effetto paglia ma ho trovato questo siero che dà un effetto fantastico la macchina è il settimo giorno lo so che faccio schifo ma volevo fare questa prova e giuro è il settimo giorno 32 gradi in casa sto sudando comunque ho lavato la macchina sono contenta perché faceva schifo proprio andiamo a fare la preparazione andiamo cominciamo con la preparazione prima di tutto fondamentale il gel di semi di vino come sapete io lo preparo una morte al mese e lo congelo questa volta l'ho congelato con latte di cocco che io lo uso per il viso e anche per i capelli però soprattutto per il viso come tonificante ne ho messo ci ho messo tre poi aggiungo un cucchiaio di vasellina che gli ultimi mesi ho scoperto la vasellina per i capelli che li porti all'occhi anche gli occhi e gli ultimi mesi ho stranato mai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti